Il modello Creek è nato dalla collaborazione di Andrew con Hotfly. Andrew è la ditta tutta italiana con sede a Montebelluna specializzata nella realizzazione di scarpe tecniche, mentre Hotfly è un brand ormai molto conosciuto nel campo della pesca mosca. Dalle competenze di Andrew nel settore calzature e dall'esperienza di Hotfly nel mondo della pesca mosca è nato uno scarponcino estremamente resistente e molto confortevole. Sicuramente questo è un prodotto destinato a durare nel tempo anche se messo costantemente sotto stress. Ormai è stato apprezzato da oltre 2000 pescatori in tutta Europa. La giusta rigidità di cui è dotato questo scarponcino consente di tenere la caviglia sempre in una posizione ottimale permettendo di avere un appoggio uniforme su tutta la pianta del piede. Questo permette di affrontare in completa sicurezza anche i terreni più impegnativi. La tomaia è stata realizzata da un pezzo unico senza cuciture. Il materiale con il quale è stata realizzata è molto leggero e resistente all'abrasione e al taglio. Per proteggere ulteriormente la parte bassa della tomaia dall'urto contro le rocce presenti sul fondo è stata inserita una fascia in gomma altamente resistente all'abrasione. Questa fascia in gomma se negli anni si dovesse usurare è possibile sostituirla. La suola è formata da uno strato inferiore a contatto con il fondo che potrebbe essere feltro o vibram con o senza chiodi e è presente inoltre una intersuola in poliuretano a bidensità che è in grado di ammortizzare in maniera molto confortevole il piede durante il contatto con il terreno. I cuscinetti easy roller permettono uno scorrimento molto fluido dei lacci dello scarpone. Una volta serrata la parte inferiore sarà possibile bloccare i lacci facendoli passare attraverso queste due clip per poi finire di allacciarsi con tutta calma la parte superiore dello scarpone senza il rischio che la parte inferiore vada ad allentarsi. Un'altra caratteristica interessante di questo scarpone è che indipendentemente dal fatto che sia asciutto o bagnato subisce una variazione nella dimensione veramente impercettibile. Questo permette di infilarlo e toglierlo in maniera molto comoda anche da asciutto. Per tutti i modelli Andrew offriamo un servizio di risuolatura e è possibile inoltre passare da feltro a vibra. Se si dovesse consumare è possibile sostituire anche l'intersuola e come detto in precedenza è possibile sostituire anche la fascia in gomma.